Teo Hernandes calcia da fuori Teo Hernandes, Cragno, la miglior parata della partita finora è di Alessio Cragno sul tentativo da fuori di Teo Hernandes. E' interessante per Varella, che può andare? Mi segue Duncan, Varella, palla che passa, in area Dzeko, in area Dzeko, Terracciano! Maxime Lopez, scambia con Berardi, ancora il francese in area, Maxime Lopez, prove del... altra grande chance per il Sassuolo. Verdi, palla dentro, Diuric riesce a fare da sponda per Bonazzoli! Ancora Scesni a salvare i bianconeri, arriva Pellegrini e spazza via. Ha messo il mantello Scesni, è volato, a togliere dal sacco la demi-volée di Bonazzoli dopo il gran lavoro di Diuric. Soriano si putta dentro l'austriaco, ecco lo servito, fa andare per Orsolini, sterzata! E poi, paratona da parte di Musso, che nega il vantaggio al Bologna, al 43esimo, Musso, super! Grazie a tutti!